Ciao ragazzi, qui è PixGamer. Allora ragazzi, ho una notizia. Prima che vi do questa notizia, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci tengo molto. Allora ragazzi, come sapete, ieri sera è uscita questa notizia. Il Manchester United vuole vendere Pogba. Questo è quello che mi risulta a me. La Juve, dopo la chiusura di aumento di capitale, starebbe per offrire al Manchester United 75 milioni più il cartellino di Adrian Rabiot. Stiamo verificando questa notizia insieme a questa persona e io poi vi farò sapere se è vera o no. Ragazzi, io continuo a ribadire che secondo me Pogba, sulla storia di Pogba c'è sotto qualcosa. A me sta cosa mi puzza e secondo me, l'ho detto anche ieri nella live di Marco, di Malati Zebrati, che secondo me, Mino Raiola e Paratici stanno lavorando in silenzio per riportare Pogba, secondo me, già a gennaio. Ma, ripeto, io penso che sia un'operazione per giugno. Quindi ragazzi, se ci sono novità, sapete che io vi aggiorno, faccio video. Quindi, un saluto al PixGamer e come sempre, fino alla fine, forza Juventus. E mi raccomando, iscrizione al canale. Bella.